Una grande villa di 450 metri quadri su tre piani, circondata da mille metri quadri di terreno. Si trova sul litorale di Fondachello a Casteldaccia ed è stata affidata all'associazione Ius Vite, guidata da padre Antonio Garau. Sarà un luogo privilegiato di incontro e formazione dei giovani al volontariato e alla legalità, creando momenti di condivisione ed amicizia con i piccoli comuni italiani ed esteri, specialmente dove abitano gli emigrati di Bagheria e Santa Flavia, per far conoscere ai loro figli la storia, la cultura e le tradizioni del popolo siciliano. Alla cerimonia di consegna, insieme a padre Garau, erano presenti il sindaco Antonio Napoli, l'assessore al turismo Pietro D'Acquisto, l'assessore al patrimonio Gaspari Affaticato e il presidente del consiglio comunale di Santa Flavia, Santino Lobuglio. Intanto dobbiamo dire che questa amministrazione in poco più di otto mesi ha già consegnato quattro beni confiscati alla mafia, perché riteniamo che la lotta alla mafia in tutte le sue sfaccettature, c'è chi la lotta dando la propria vita, c'è chi la lotta anche con questi umili gesti. Noi abbiamo fatto il nostro dovere nel restituire un bene confiscato alla mafia, alla collettività. Qui ospiteremo anche i figli degli emigrati, che sono in diverse parti del mondo, figli delle persone di Santa Flavia, di Bagheria, che verranno qui a conoscere la nostra realtà, saranno da noi ospitati, dai giovani stessi saranno ospitati e si creerà una grande sinergia di comunione, di condivisione, di fratellanza. Sarà un luogo proprio chiamato, intitolato da un Pino Puglisi, proprio perché è lui che cammina un poco su tutte le orme di questo meraviglioso mare. Sono assolutamente convinto che questi accadimenti rappresentano il termometro di un'evoluzione civica e di una progressione culturale che ci vede uniti istituzioni pubbliche e forze dell'ordine nel comune intento di recepire la nuova cultura della legalità, cultura che sicuramente ci permetterà di redistribuire quella ricchezza per anni sottratta dalle organizzazioni criminali e dalle subculture alle economie insediate, alla popolazione, alla Sicilia. Il nostro obiettivo è sconfiggere la mafia, ringraziare le forze dell'ordine per tutto il lavoro che fanno sul territorio, anche rischiando la propria vita. Quindi siamo molto vicini. Infatti ho chiesto a Padre Garrao se ha una collaborazione per i fondi da mettere in bilancio per ristrutturare questa mega villa e affidarla ai giovani che verranno ad abitarci.